Apriamo la conferenza stampa di presentazione del tecnico Alessandro Bruno, neo allenatore della prima squadra Giallo Celeste. Accanto a lui il direttore sportivo dell'FC Arzegnano Valchiampo, Mattia Serafini, che congiuntamente presenterà la stagione 2024-2025. Grazie mister e di nuovo benvenuto, grazie direttore. Grazie a voi, grazie a voi. Gli argomenti all'ordine del giorno, l'analisi e l'avvio della pre-season, la rosa in costruzione e la presentazione dello staff tecnico che lavorerà insieme a mister Bruno, uno sguardo al calendario e agli impegni resi noti in questi ultimi giorni dalla Lega Pro tra campionato e Coppa Italia Serie C Now. Partiamo subito con le domande della stampa a mister Bruno, il microfono va ad Anna Fabrello del giornale di Vicenza. Sì mister, intanto benvenuto da parte di tutta la stampa vicentina anche. Ti chiedo un po' come è nata innanzitutto questa tua avventura ad Arzegnano. L'Arzegnano negli ultimi anni ha lanciato allenatori che, insomma, spesso scommesse, anche per te da allenatore sarà l'esordio tra i professionisti, e quindi come è nata questa trattativa e perché hai scelto di dire di sì ad Arzegnano? Ma devo dire che è stato un amore a prima vista, se così lo possiamo descrivere, perché è stata tutta una trattativa lampo, il direttore e tutta la società ci ha messo poco a decidere su di me perché evidentemente hanno trovato qualcosa di positivo. Io sono contentissimo, per me è la prima mia esperienza da professionisti, e quindi ci metterò tutto me stesso per far sì che questa sia una scommessa vincente. Come tradizione, come ha detto Dupo Canzi, l'Arzegnano ha spesso lanciato allenatori bravi che adesso sono in carriere, quindi io spero di essere all'altezza di ciò. Ecco, hai conosciuto la squadra, i primi ragazzi, domani si inizierà effettivamente sul campo, come valuti la rosa di partenza? Chiaramente è un work in progress, il direttore al tuo fianco e insieme al direttore generale Togni stanno lavorando, come la valuti fin qui? Ma fino adesso già avevamo una buona base di giocatori, quindi questa è positiva come cosa. I direttori stanno lavorando per alcuni rinforzi, logicamente ci vuole del tempo, adesso siamo in una fase embrionale, comunque ad oggi la squadra ha già un buon punto, adesso con il tempo cercherà di sistemarla definitivamente per farci trovare pronti all'inizio della stagione. Sarà un campionato molto duro e difficile, però noi ce la metteremo tutte, perché il nostro obiettivo è quello di dar fastidio a tutte le squadre che incontriamo e cercare sempre di dare il massimo e di imporre il nostro gioco, questa è la prima cosa. Quindi su questa base il direttore, sia il direttore struttivo che il direttore generale, stanno facendo un grande lavoro per far sì che comunque la squadra sia completa il prima possibile. Ecco, l'hai detto, tu per te esordi tra i professionisti da tecnico, però insomma di calcio professionistico ne hai fatto tanto da giocatore invece, però è per te diciamo una novità il girone A della Serie C, non hai mai giocato da queste parti, lo conosci, che idea ti sei fatto di questo girone? No, questo è un girone complicato perché una volta l'ho fatto da giocatore e l'ho vinto, con il Livorno, quindi conosco le insidie e conosco le difficoltà che ci sono in questo girone, tutte le squadre provano a giocare e quindi ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento, quindi dal canto nostro dobbiamo avere sempre un atteggiamento rispettoso per l'avversario, ma mai avere paura perché con la paura non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo essere in grado di far male sempre in qualsiasi momento della gara, in qualsiasi partita della stagione, quindi questo deve essere un marchio di fabbrica dell'Arzegnano, quindi il girone è tosso, difficile, però è anche molto bello ed entusiasmante. Ecco l'avvio tra l'altro di certo non vi ha, chiamiamo così detto, facilitato, perché incontrerete subito in avvio, andrete a giocare tra l'altro a Trieste, quindi insomma un campo complicato, poi in casa quasi subito dopo ci sarà anche il Padova, quindi due delle big. Come si inizia con queste partite così tante? Io sono del parere che poi prima o poi le deve raffrontare tutte queste gare, quindi certamente sono partite molto difficili perché affronteremo squadre blasonate e costruite per vincere, ma come ho detto poco, anzi noi venderemo cara la pelle perché cercheremo di dare filo da torcere soprattutto a queste grandi squadre che comunque in organica avranno giocatori importanti. Io penso che forse è meglio affrontarle prima che stanno ancora in una situazione di rotaggio che dopo. Ecco invece parlando di questioni un po' più tecniche, se non sbaglio tu l'anno scorso notaresco utilizzavi un 433, è il modulo che prediligi, come sei solito a schierare le tue squadre, hai un'idea già anche di quello che farai con l'Arzegnano? Sì, non era proprio un 433 però era un sistema di gioco abbastanza fluido, la nostra metodologia era più basata sui principi che sulle codifiche quindi erano moduli abbastanza fluidi e quindi io cercherò di mettere in pratica anche quest'anno questa metodologia e spero di riuscirci perché ho notato che comunque in organica abbiamo giocatori che possono fare quello che io ho nella testa. Ecco, il problema dell'anno scorso qui ad Arzegnano è stato proprio un po' il gol quindi che ha faticato ad arrivare, come in questo senso sei abituato a lavorare, gli attaccanti che hai a disposizione come ti permetteranno di giocare? Sì, l'anno scorso l'Arzegnano ha avuto un po' di problemi a fare gol e quindi cercheremo di lavorare su questo aspetto, cercheremo di fare delle esercitazioni, di lavorare su alcuni aspetti che comunque l'anno scorso sono unito un po' meno. Io sono abituato a un gioco abbastanza offensivo ma sempre con equilibrio, essendo un ex centrocampista quindi l'equilibrio è stato sempre la mia forza tra virgolette dal giocatore, quindi cercherò di mettere in campo equilibrio e gioco offensivo per far sì che comunque gli attaccanti possono esprimersi in maniera positiva e fare anche tanti gol. Tu da giocatore hai incontrato spesse volte il Vicenza, li hai fatto anche male, siamo in un territorio, insomma quello vicentino, in cui chiaramente Vicenza è un po' il punto di riferimento, l'anno prossimo si rinnoverà questo derby che per Arzegnano è una partita speciale come quelle contro le big e quindi un po' come vivi questo? Sei consapevole di ciò che voglia dire Vicenza, soprattutto in una categoria come questa? So che questa partita è molto sentita qui perché comunque questo è territorio vicentino e quindi ci saranno anche tantissimi tifosi credo del Vicenza, quindi una partita sentita sia per la gente di Arzegnano ma soprattutto per la società. Per quanto mi riguarda, non lo vorrei dire però, comunque Vicenza mi ha sempre portato bene quindi speriamo che comunque mi continuerà a portare bene. Ecco, raccontaci se posso chiudere un po' di com'è Alessandro Bruno fuori dal campo, noi l'abbiamo conosciuto come dicevi un centrocampista sei uno che, il presidente Lino Chiles è qui l'anno scorso, ricordo che al primo allenamento ha detto ai suoi che bisogna mangiare l'erba, insomma in campo ci hai dimostrato che sei, eri capace di farlo questo è quello che trasmetterai ai tuoi ragazzi? Ma sì, io come caratteristiche quando giocavo era tutto corsa, sudore e sacrificio io credo che al giorno d'oggi il calcio non possa prescindere da queste caratteristiche quindi bisogna dare sempre il massimo, correre, impegnarsi e in un calcio sempre più fisico adesso queste sono le caratteristiche principali, poi dopo possiamo metterci tutto il resto dentro qualità, estro, ma comunque il sacrificio e il sudore sono alla base di questo sport e quindi io cercherò di trasferire alla squadra questi miei concetti che io mi portavo già dentro da calciatore. Bene, ringraziamo mister Alessandro Bruno, passiamo a Mattia Serafini, direttore direttore intanto ti chiedo di partire un po' invece dalla domanda opposta che ho fatto al mister quindi perché la scelta di mister Alessandro Bruno per la nuova stagione giallo-celeste? Buongiorno a tutti intanto, diciamo che il mister lo conoscevo già da calciatore avevo avuto modo di apprezzarlo appunto anche sui campi di calcio poi seguendo molto anche le categorie inferiori ho notato il suo modo di comportarsi in panchina i suoi atteggiamenti, la sua metodologia, comunque dei concetti, dei principi molto importanti secondo me e abbiamo reputato assieme a Matteo e al Presidente e a tutta la società che lui fosse il profilo più idoneo per provare a fare comunque un calcio che può piacere a noi, alla gente ed essere anche funzionale per quello che abbiamo in testa di fare per il prossimo anno. Ecco, penso che l'obiettivo, te lo chiedo, per la nuova stagione però si parta da insomma conquistare quello che per voi e il vostro scudetto l'abbiamo detto tante volte, ovvero la salvezza a cosa può puntare quest'anno l'Arzegnano? Ma io penso che noi dobbiamo puntare a fare più punti possibili in tutte le 38 gare che ci sono e soprattutto anche nelle partite di Coppa che comunque sono funzionali alla preparazione del campionato poi a fine dell'anno vedremo dove saranno arrivati e cosa avremo fatto perché il calcio ci insegna che dobbiamo provare comunque ad affrontare ogni partita con lo spirito di provare a vincere poi sicuramente ci saranno delle sconfitte, ci saranno delle vittorie la cosa importante è cercare di mantenere sempre un equilibrio che poi ci porterà comunque a raggiungere anche gli obiettivi sia a livello singolo che a livello soprattutto collettivo Ecco, tornando al mercato invece ti chiedo è un mercato che fin qui forse è anche un po' strano, un po' fermo come lo stai vivendo tu? Un mercato come al solito molto particolare dove comunque servono molte idee, servono conoscenze e quindi compatibilmente con quello che è il nostro budget e quella che è la nostra filosofia soprattutto stiamo cercando di unire ai ragazzi che ci sono e che hanno accettato di buona lena di rimanere con noi con il nostro nuovo percorso tecnico comunque di prendere profili funzionali soprattutto giovani per il calcio di mister Bruno e basta io sono molto contento di affrontare questa nuova sfida con il mister perché qualcosina cambieremo e quindi il mio focus, il mio scopo è sempre quello di ricercare i profili più adatti, ideali alle idee dell'allenatore si sta lavorando in sinergia per provare a costruire qualcosa di importante che ci porti comunque a determinate soddisfazioni e entro un po' più nello specifico finora sono arrivate conferme importanti della Rosa dell'anno scorso quindi si ripartirà da quello scheletro di quello scheletro però ci sono giocatori dell'Arzegnano sotto contratto che non sono ancora stati confermati dicono che sono giocatori che hanno attirato l'attenzione anche di altri club come giusto che sia ti chiedo in particolare magari di dirci quello che puoi sulle situazioni di Parigi, Antoniazzi, Casini e Lacti che forse sono un po' i profili più attenzionati sì, sono dei ragazzi che comunque sono da due o più anni con noi che hanno comunque scritto delle pagine importanti di storia con noi e quindi vanno innanzitutto ringraziati, rispettati per quello che hanno fatto e noi lo faremo fino alla fine sicuramente Parigi è un attaccante e come vuole dire il ruolo è cercato da club comunque che stanno facendo le loro riflessioni come noi stiamo facendo le nostre stiamo valutando alcune cose la nostra filosofia è che comunque quando un calciatore fa bene a Darzignano e completa il suo percorso qui è giusto che vada quindi se troveremo un accordo con una società che vorrà il nostro calciatore lo lasceremo sicuramente andare perché qui non si fanno prigionieri soprattutto anche perché bisogna avere la testa giusta per rimanere in questo contesto come si diceva prima a mangiare l'erba altrimenti non va bene per nessuno e per niente quindi non facciamo prigionieri le situazioni degli altri ragazzi sono ragazzi che comunque come Giacomo partiranno con noi in ritiro che valuteremo durante la stagione come più volte Erald ha detto a un altro anno di contratto e quindi con lui valuteremo il da farsi durante il proseguo di questi giorni, di questi mesi Antoniazzi ha altri due anni di contratto è un profilo che ha fatto molto bene in questi cinque anni con noi anzi sei perché è arrivato con italiano quindi io sono sicuro che lui farà una grande stagione la prossima annata se non arriverà nessuna richiesta e se il ragazzo rimarrà con il sorriso di sicuro noi non lo lasceremo andare via perché è un simbolo della nostra valle è un simbolo per questa società e un'annata non al 100% può capitare a tutti penso perché i ragazzi non sono di robot quindi assolutamente Antoniazzi per me è un punto fermo Casini è il nostro capitano ancora un anno di contratto e valuteremo con lui da farsi perché è un ragazzo speciale e stupendo quindi non ci sarà anche un tipo di problema come in tante situazioni ci vuole un po' di tempo per capire determinate situazioni e determinate dinamiche che si innescheranno nei prossimi giorni e nel prossimo mese certo ecco invece tornando al mercato in entrata sono arrivati due prospetti giovani Dezen e Stefanoni due ragazzi insomma di prospettiva come dicevi tu giovani che possono ben adattarsi al modulo di mister Bruno che altri obiettivi ha la Zegnano a stretto giro insomma ma arriveranno presto delle altre ufficialità comunque saranno dei calciatori che provengono dal mondo dei dilettanti quasi tutti perché comunque sposano la nostra filosofia e non andremo a prendere calciatori che comunque non possiamo permetterci e che non verrebbero magari con la testa giusta nel nostro ambiente ci sarà anche qualche innesto di esperienza sicuramente ma per quello stiamo valutando con calma da farsi il da farsi io mi sono concentrato molto sul collaborare con le società professionistiche della zona soprattutto di serie A e di serie B come il Verona, il Cittadella e anche il Cesena da dove arriverà un ragazzo che nei prossimi giorni verrà ufficializzato e diciamo che non ci si deve aspettare nessun colpo di grido ma arriveranno dei ragazzi giovani con tanta voglia di fare con tanta voglia di mettersi in mostra perché comunque ci sono anche realtà vicino a noi che stanno lavorando così da anni e che stanno raccogliendo frutti importanti a cui vanno fatti i complimenti fermo restando che poi l'obiettivo è quello di vincere le partite Chiudiamo la conferenza stampa a presentazione della stagione 2024-2025 dando appuntamento a domani per l'inizio degli allenamenti qui allo stadio Dal Molin al campo sintetico e poi per il trasferimento sull'altopiano di Asiago per il ritiro pre-season Ringraziamo la stampa il giornale di Vicenza con Anna Fabrello qui presente il fotografo Antonio Trogu dietro le quinte TVA Vicenza e tutta la stampa il grazie poi va di nuovo al nostro allenatore Alessandro Bruno e al nostro direttore sportivo Mattia Serafini Grazie